buongiorno buongiorno le uova le vuoi strapazzate o fritte beh non ha molta importanza forse strapazzate più veloce la prendo anch'io così è bello fare colazione senza i bambini sì e poi ho pensato che ti servisse una colazione così no è una giornata importante oggi è la riunione con Pollock beh sì sai che bellezza ma io penso di sì è una cosa bella no per loro almeno lo sai che non mi hai mai parlato del tuo nuovo lavoro di che cosa ti occupi non ti ne ho mai parlato vedi credo che che abbia a che fare con la nox si presta ad acquistare uno di quei grandi computer più grandi del 500 ma non ti ne ho mai parlato puoi farlo ora se vuoi beh sì in pratica si tratta di una dizionatrice grande e solo che anziché le le parti meccaniche delle grandi valvole termo ioniche ho capito credo di aver capito sembra interessante sì per certi versi sì lo è devi essere orgoglioso di quello che fai frank è evidente che se provo a farlo beh sarà meglio che vada adesso ascolta voglio che tu sappia che questa colazione è bellissima non ho mai fatto una colazione così buona grazie anche a me è piaciuta molto quindi non mi odi certo che no buon lavoro è troppo è troppo è troppo è troppo è troppo